Musica Siamo a Lecce, alla rossicceria La Sirena La nostra specialità è il calzone fritto al forno La particolarità di questo prodotto è la pasta molto sottile e leggera L'ingrediente del calzone è lievito, sale, acqua, strutto, pomodoro e mozzarella In questo momento storico stiamo utilizzando una macchina per stendere i calzoni Però in passato usavamo esclusivamente il mattarello E vi assicuro che non era facile portare la pasta così sottile Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.